La Giunta Comunale di Cosenza ha approvato l'istituzione dello sportello informativo unico per la crescita sostenibile a supporto dei giovani senza lavoro. La sede del nascente sportello informativo unico per la crescita sostenibile sarà l'ufficio Io Cittadino di Via San Martino a Cosenza. Inoltre è attiva ad una collaborazione con Fincalabre e con il Centro per l'Impiego Provinciale di Cosenza per l'utilizzo degli incentivi della Regione Calabria tramite la creazione di uno sportello informativo specializzato sugli strumenti finanziari previsti per i giovani inoccupati quali Garanzie Giovani e il Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita. Il front office fornirà assistenza e informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti finanziari suddetti e sui requisiti richiesti e raccoglierà le domande di lavoro e le proposte di progetti investimenti.